Vincenzo, pronti per questa seconda fase, per questi play-off? Sì, inizia un mini campionato, un altro torneo a parte, come lo si vuole chiamare, e credo che la squadra ci arrivi con la giusta condizione, sia fisica che mentale. È ovvio che sarà da vedere poi dopo, una volta in campo, come ci comporteremo, però ci arriviamo bene. Che cosa ti preoccupa di più di questa Venezia? Come state preparando questi play-off da un punto di vista tecnico? È ovvio che il lavoro ormai svolto è questo, e poi dopo, giocando partite molto ravvicinate, ogni due giorni non ci sarà più la possibilità di cambiare, di fare degli stravolgimenti tattici durante la serie, quindi bisogna arrivarci soprattutto preparati mentalmente e fisicamente. e sappiamo che andiamo a giocare una partita, una serie contro una squadra, che insieme a Milano è forse quella che ha due squadre, ha 14 giocatori veramente arruolabili, due giocatori a turno dovranno rimanere fuori, quindi partiamo probabilmente, anzi sicuramente, da sfavoriti, però non andiamo a fare le vittime sacrificali di nessuno, giocheremo una partita alla volta e poi vediamo come andranno le cose. Secondo te quale potrebbe essere la chiave di questa serie? È ovvio che quando giochi con squadre così lunghe, con tanto talento, soprattutto offensivo, la concentrazione sui due lati del campo per tutti i 40 minuti sarà fondamentale, perché come si è visto anche nell'ultima partita giocata in casa contro Venezia, nella stagione regolare, un paio di minuti di distrazione, ci sono costrati quel mini break che poi non siamo riusciti più a recuperare, quindi concentrazione, attenzione massima per tutti i 40 minuti. Venezia è uno squadrone, secondo in classifica, ma Pistoia è il miglior allenatore della stagione? Sì, però io credo che è importante più il riconoscimento individuale mio, il lavoro dei ragazzi che hanno fatto durante l'anno e il lavoro anche dello staff tecnico. Questo è un gruppo di 15-16 persone che praticamente lavora in settimana sul campo e sarà lo stesso che andrà a giocare a Venezia con la stessa mentalità e con la giusta determinazione, senza guardare ai riconoscimenti, ai pregi e difetti, ma giocando e lottando una partita alla volta.